Vi dirò, faccio davvero difficoltà a credere a quello che ho visto e non è il motivo che tutti voi immaginate perché sì, arrivo forse con un pochettino di dato rispetto agli altri, però devo parlarvi di alcune cose che ho visto che le altre persone non hanno trattato, cose che secondo me dovete sapere oltre ovviamente alle novità su processori di Intel tredicesima generazione, schede video ma c'è molto alto di cui discutere, soprattutto su questi temi e niente signori, salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Allora signori, sono stato a Milano e ho assistito all'evento Intel dal vivo tra l'altro io ero in live mentre ero all'evento, infatti stavo nello stanzino, è stato abbastanza divertente vi ricordo che adesso le live, alcuni di live verranno spostate su questo canale, altri rimarranno su Twitch rimanete sintonizzati per le prossime cose, ma adesso dobbiamo andare a parlare di cosa abbiamo visto ieri Sicuramente la maggior parte di voi sono interessati a Intel Arc e Intel tredicesima generazione e per il resto, diciamo, voi andete magari pure qualcuno a chiudervi ma in realtà sono tutte novità che sono molto connesse tra di loro e che dobbiamo discuterne perché altrimenti non riusciamo poi a capire i pezzi e determinate cose nel momento in cui ci si trovano davanti facciamo, oh mio Dio non lo sapevo e invece, to, è tutto lì Partiamo dal principio, da dove è partita l'Intel? Le schede video, che tra l'altro è la cosa che vi interessa Schede video presentata? No, perché in realtà l'Intel Arc A770 è stata già presentata Ci sono stati diversi release da parte di Intel e da parte anche dei recensori indipendenti soprattutto d'altra parte dell'oceano che hanno già recensito questa scheda L'unica variabile di questa scheda, un'unica cosa di cui non si riusciva a sapere in questo momento era il prezzo Non sappiamo esattamente qual era il prezzo, non lo sapevamo fino a ieri Prima di arrivare al punto del prezzo proviamo un attimo a capire cosa abbiamo davanti A770 non è una scheda top di gamma Anche parlando con Intel, al momento per questa generazione non c'è l'intenzione di andare ad intaccare quella fascia top di gamma anche perché probabilmente sia arrivati adesso meglio fare le cose con calma e fatte bene piuttosto che fatte di fretta e non farle per niente Quanto vi manca per una scheda top di gamma? Eh, bisogna aspettare bisogna aspettare la prossima generazione quindi Battle Mage con queste riusciremo a raggiungere performance molto più elevate e quindi bisogna aspettare E soprattutto ragazzi so che avete sentito mille rumor sul fatto che l'Intel mandava in pensione le schede video che non sarebbero mai uscite no, il 12 ottobre queste schede video saranno acquistabili a 329 dollari MSRP tradotto in euro meno di 400 mi aspetto un prezzo intorno ai 380 che è tanto, che è poco Allora, diciamo che dal momento in cui Intel ha mandato la scheda video ai recensori indipendenti ad oggi qualcosina è cambiato una delle più grosse problematiche delle schede video Intel, ne abbiamo già parlato era soprattutto il supporto driver l'ottimizzazione della scheda all'interno del sistema e all'interno comunque dei giochi che poi deve andare ad utilizzare le cose sono cambiate le performance, comunque la sterilizzazione sono molto profettenti è una scheda che è superiore a un RTX 3060 anche per quanto riguarda il comparto ray tracing anche e soprattutto grazie al fatto che se abbinate a processori Intel ha un boost ulteriore grazie al deep link di cui tra l'altro con l'Intel 13th generazione e gli Intel anche 12th generazione condividono a tutti gli effetti la stessa scheda grafica integrata quindi vi do già un'infarinatura generale per quanto riguarda gli Intel 13th se avete la possibilità e l'opportunità di abbinarle ai processori di 13th generazione troverete notevoli vantaggi grazie alla simbiosi tra la grafica integrata dei processori Raptor Lake e quella discreta appunto della serie A che è esattamente il deep link diventa un'opzione molto molto interessante per gli acquirenti e Pat Gelsinger nella presentazione non l'ha mandata a dire ha parlato forse un pochettino a nome di tutti di una certa frustrazione che si è creata nel mercato dei giocatori che si sono trovati nella situazione soprattutto negli ultimi anni a dover spendere cifre molto grandi per poter entrare all'interno del panorama gaming io vi ricordo che un RTX 3050 oggi costa ancora più di 300 euro una 6600 che al momento è la scelta più economica è vicina ai 300 euro e poi basta perché io non voglio cioè non la no no non le voglio neanche nominare quelle due quelle tre quattro quanti erano infamate no quelle non vanno nominate quindi per carità comunque processori scaramate i RAM quello che volete ma alla fine comunque serve il sistema operativo per almeno la chiave di Windows paghiamola poco infatti con Kiss Fun di cui trovate il link in descrizione potete avere grazie al coupon che vedete adesso a schermo un bello scondo sull'acquisto di Windows 10 o Windows 11 fino anche al 50% è tutto molto semplice voi mettete il codice arriva la chiave per email la mettete su Windows e il gioco è fatto Windows è attivato mi raccomando ragazzi il link è in descrizione tra le altre cose parlando poi con Biagio Currieri uno dei manager di Intel lui soprattutto a livello engineer praticamente mi ha spiegato non soltanto ciò che riguardava la A770 tra l'altro penso vi lascio anche all'interno del video alcuni piccoli spezzoni dove appunto ho avuto modo anche di poter parlare con lui ho parlato anche con Paolo Canepa sempre di Intel che mi ha detto altre cose riguardo la produzione ma adesso ci arriviamo e praticamente anche la A750 potrebbe risultare un profilo molto interessante perché è una scheda che va a coprire tra la A380 e la A770 che comunque tra le due schede c'è una grossa differenza lui mi ha detto di vedere qualcosa che sarà in mezzo ora a MSRP la A380 sappiamo che sta sui 150 euro quella sarà tra i A380 in mezzo c'è la fascia dei A250 forse anche meno che è una fascia che è stata lasciata un pochettino abbandonata da se stessa e avendo toccato con mano la A750 perché non so se avete visto la storia su Instagram ce l'avevo proprio in mano proprio l'ho avuta da l'impressione che per essere una scheda viva e ovviamente e ovviamente ci troviamo a coprire quella fascia che è stata abbandonata un pochettino da AMD e Nvidia quella fascia che comunque ha i giocatori ci sono molti giocatori che vogliono quella fascia di prezzo che vogliono finalmente non avere affari dei pc competitivi con 5 600 anche 700 euro e Intel vi da una mano anche dal punto di vista dei processori adesso ci arriviamo allora con le schede grafiche arrivate in un momento un pochettino particolare si fanno lanci soprattutto per l'ultra fascia diciamo che c'è una fascia un pochettino dimenticata il prezzo dell'A770 già sembra più interessante e più nelle corde di molti giocatori dall'A750 cosa ci possiamo aspettare? il prezzo esatto adesso non lo conosciamo ancora o quantomeno io non ne sono a conoscenza le performance chiaramente dovrebbero andare a colmare quel gap tra la serie 3 e appunto la serie 7 quindi abbiamo visto la serie 3 lanciata prima dell'estate la serie 7 arriverà adesso sugli scaffali l'abbiamo vista quindi andrà a coprire quella parte media se vuoi perché la serie 7 per noi è medio alta la serie 3 rimane comunque entry e quindi abbiamo questa fascia un po' medio bassa se vuoi da andare a colmare produzione schede video hanno avuto problemi di produzione in realtà poi sappiamo che c'è stato anche qualcos'altro ho visto video di Jay Chousand su dichiarazioni che insomma fanno un pochettino venire i brividini però ok non per quello che dice Jay ma per le situazioni che lui poi va posso dire ad analizzare fatto sta che comunque per quanto riguarda livello produttivo Intel ha dichiarato di aver aumentato ancora di più la sua capacità produttiva questa cosa ci fa piacere oddio problemi sui processori Intel non ne ha mai avuti quindi in realtà va così sappiamo che le schede video tra l'altro sono in collaborazione con TSMC e tra l'altro Intel che è una fonderia ha stretto una partnership ancora più strette con due fonderie TSMC e Samsung questa notizia è molto grossa perché vuol dire che effettivamente andare a creare anche un'interconnessione tra chi poi i processori li fa letteralmente crea una serie di open source della fonderia non saprei dire un open source della produzione che poi ovviamente può avvantaggiarti dal punto di vista tecnologico una delle cose più fighe che è stata fatta a vedere ieri era il tablet di Samsung quello che si allarga non è che si piega proprio tipo uno sliding perché proprio letteralmente quello si arrotola e si srotola ovviamente c'era anche il CEO di Samsung assurdo il fatto che ci sia il CEO di Samsung in una conferenza Intel quello è veramente fuori di capoccia non come poi la persona che abbiamo visto alla fine fatto sta che comunque c'è stata questa commissione questa partnership ancora più integrata Samsung comunque utilizza già dei sistemi Intel e Intel comunque anche diciamo di riflesso utilizza già sistemi Samsung più ovviamente anche questa interconnessione con TSMC che già produce schede video Intel già almeno si occupa di una parte di produzione di quello che più adesso diventa una cosa più inserita diciamo che Intel a livello di rete di comunicazione almeno se l'è giocata bene se l'è vista bene scambiato anche due parole per quanto riguarda i due impianti che Intel dovrebbe andare nei prossimi anni a creare in Italia dovrebbe essere uno del torinese uno del veronese quello su Torino sono quasi sicuro al 100% che sia Mirafiori forse stavo già dichiarato che sia Mirafiori quello del veronese al momento non ne ho informazioni diciamo che chiederò anche come posso dire alle mie fonti industriali le valindaste al cosa si sa e magari vedo se vi riesco a dire qualcosa comunque fa sempre piacere quando una multinazionale sceglie l'Italia per fare queste attività sono posti di lavoro in più che ovviamente arriveranno l'intenzione di Intel a quanto pare comunque è quella anche di continuare ad investire in Italia vi devo dire che mi dispiace no sono posti di lavoro che in questo momento serve come il panni queste sono buone notizie parliamo poi quindi oltre delle schede video a livello della produzione che quindi aumenterà che quindi non dovremmo avere problemi almeno da questo punto di vista parliamo poi ovviamente dell'altra novità che sarà presentata ovvero l'Intel 13esima generazione nella presentazione ovviamente non hanno ricoperto un ruolo come io credevo che praticamente io pensavo andavo là e vedevo la presentazione di un'ora di Intel 13 mai l'impressione è stata più sbagliata perché in realtà fighi gli Intel 13 per carità il resto della roba che ho visto tra cui quello che vi va da di dopo è fuori di melone secondo me molto più di sta parte di sta parte hardware Intel 13 è una generazione che effettivamente si presentano come un refresh di Alder Lake però diciamo ci sono delle ottimizzazioni che non possiamo andare a negare e secondo me un lavoro di ottimizzazione fatto con criterio perché comunque è da un anno che parliamo comunque di quanto la cache possa influire ancora prima dei Ryzen 3 di cache avevamo fatto un video praticamente un anno fa che parlava dell'importanza della cache e di come Intel potesse anche andare a perdere in quell'ambito toh aumentiamo la cache perfetto c'era un problema per quanto riguardava la frequenza delle memorie soprattutto se si usavano due banchetti quattro banchetti il memory controller ogni tanto andava un pochettino a sbarellare perdevi un po' di frequenza toh migliorato anche questo e messo a posto per quanto riguarda invece temperature e consumi temperature al momento non lo so però prevedo che siano molto simili a quelle dello scorso anno anche perché effettivamente il max power del 13900k non è cambiato molto dal 12900k è cambiato essenzialmente di 10 12 watt 12 watt per l'esattezza c'è però una anzi due due piccole parti proprio così ci sono 8 core in più e 600 megahertz di frequenza in più e per me è un lavorone aver messo con soltanto 12 watt in più in max power 600 megahertz e 8 core in più è un bel lavoro di ottimizzazione che sicuramente porterà questo processore a livelli molto alti ora durante la presentazione è stato fatto il confronto con ryzen 5950x e col 5800x3d la bondage 5800x3d per quanto riguarda il gaming lo sappiamo è il processore top per quanto riguarda il gaming ovviamente quello è un processore strettamente legato al mondo gaming non che non si riesca a fare altro per carità però sappiamo come poi in altri scenari sono processori che ovviamente per fisica del processore stessa perché quello ha 8 core se lo metto a paragone con 16 core quello va di meno in multitrading fatto sia comunque il 3900k riesce ovviamente ad aumentare le performance rispetto al 12900k e riprendersi anche un pochettino la leadership sul 5800x3d che abbiamo visto comunque messo a paragone con la serie 7000 di ryzen se la gioca ancora il che vuol dire il confronto tra il 5800x3d i ryzen 7000 e gli intel 13 per quanto riguarda il gaming è una bella battaglia ci troviamo in una situazione in cui queste si più vanno ad uniformarsi il che vuol dire che abbiamo effettivamente tre serie di processori su cui giocare tra cui tra virgolette tre chipset diversi perché m4 e m5 sono due chipset diversi e soprattutto anche intel è un altro chipset e io metterei in mezzo anche il 12900k perché comunque anche le performance della serie 12 di intel non andava così lontana dal 5800x3d poi vi dirò una considerazione sui processori che ho fatto anche con gli altri ragazzi che c'erano lì stavo parlando proprio con blink in quel momento e tra l'altro anche lui proprio la frase l'ha detta lui interamente e io ho approvato in pieno quello che lui ha detto e parliamo ancora un attimo un pochettino di questi per quel altro 12900k sarà figo praticamente un processore 24 core pauroso dal punto di vista consumer sarà un processore un 432 threads perché sappiamo comunque la politica di intel 8p core con hyper trading gli e core non hanno non hanno hyper trading la cache è divisa ovviamente insomma in modo equo è comunque una smart cache quindi in realtà comunque per quanto riguarda intel si fa un pochettino il conglomerato piuttosto che la singola cache ovviamente non cambia soltanto questo cambiano anche le frequenze sugli e-cords ed ovviamente il supporto di memoria che intel da 5600 MHz ho provato due giorni fa il 12900k con le 6400k non mi sembra che si sia lamentato quindi sappiamo anche comunque la bontà di le xmp 3.0 e di queste cose quindi da quel punto di vista non dovremmo avere assolutamente nessun tipo di problema allora altra domanda molto importante perché comunque seguendo la live è stato particolarmente apprezzato comunque da tutti il supporto per le RAM di DR5 e di DR4 anche per l'overclock questa cosa diciamo rientra più nella casistica delle cose volute o più un happy accident no no assolutamente tutto voluto l'intenzione di intel è quella di facilitare sempre di più la parte di overclocking non solo sui core appunto sui performance core e sugli efficient core ma anche sulle memorie quindi di DR5 assolutamente anzi siamo più veloci rispetto alla precedente generazione e l'MXP ci permette come al solito di gestire più profili contemporaneamente da parte del vendor per andare a fare overclocking anche sulla parte memory sarà una battaglia molto serrata ma sicuramente intel avrà un pochettino del coltello alla parte del manico rispetto a md sulla serie 7000 non tanto sul 5800X 3D che vi ripeto fa un pochettino storia a sé però comunque intel ha confermato il supporto alle ram DDR4 ed ovviamente alle schede matri generazioni precedenti di cui tra l'altro sono presenti i BIOS aggiornati già praticamente da un mese per esempio sulla 0690 Hero che io vado a utilizzare spesso mi riempisco il 12900K il BIOS con il microcode aggiornato è di agosto che vuol dire che comunque è una cosa che gira nell'aria supporto per le DDR4 che giustamente portano il prezzo dell'intera piattaforma ad abbassarsi ancora di più ovviamente tra la 0790 cambia qualcosina cambierà anche tra la B760 e la B660 si parla sempre comunque di supporto per le PCL insomma cose che possono darvi degli incrementi prestazionali in determinati ambiti che però poi a tutti gli effetti a livello gaming non vi tolgono nulla il che vuol dire prendere una scheda madre 0690 DDR4 metterci sopra un 13600K che tra l'altro anche quello è un'altra bestia di processore è un processore che praticamente non lo so ho perso il conto dei core sembra 14 tu puoi fare un i5 con 14 core vabbè e comunque sembra sia 14 core e 20 threads con una frequenza ovviamente anche più elevata del 12600K potete tranquillamente prendere un costo del genere e con il 13600K che a lancio visto anche ovviamente come sta messo l'euro col dollaro dovrebbe costare meno di 400 euro circa 350 360 e sarà sarà complicato per il 7600K andare a entrare in quell'ambito anche perché il 7600K costa un po' più caro costa più caro rispetto a quando costava il 5600K magari mettiamo anche che il 13600K e il 7600K costano uguale la scheda madre del 7600K costa di più e le RAM costano di più e questo e quell'altro il 13900K è sicuramente il processore flagship sicuramente sarà un pochettino il sogno di tanti giocatori però diciamo tu da appassionato qual è secondo te il prodotto per cui il giocatore medio dovrebbe più andare posso dire più andare incontro come al solito lo dico sempre non c'è una ricetta unica per tutti però tutti possono scegliere diciamo il proprio livello che vogliono raggiungere sia per quello che riguarda il comparto CPU sia per la parte grafica secondo me chiaramente il 1319 scusa il 13900 è assolutamente davvero davvero alto in termini di performance magari non tutti hanno bisogno di questo livello e non tutti magari riescono ad arrivarci a questo livello quindi un Core i5 per esempio il 13600K può essere sicuramente diciamo un modello più equilibrato e più diciamo raggiungibile dalla maggior parte delle persone che si aggingono a fare game sappiamo tra l'altro poi come i processori Ryzen al momento insomma a livello di temperatura gli va dato una regolatina anche se poi comunque ho già visto in giro che basta andare a toccare qualcosina nel PBO per andare a scendere di temperatura e anche di molto probabilmente lì a MD ci doveva lavorare un filino meglio questo lasciatemelo dire è assurdo come toccare due impostazioni e perdere 30 gradi ma mi ha veramente fatto esplodere la testa una cosa del genere vabbè lasciamo perdere quando poi avremo i Ryzen 7000 sotto mano a breve vedremo anche queste soluzioni il perché per come e per quando ma adesso parliamo di quest'altra cosa l'altra roba più figa che ho visto ieri oltre processori e schede video che sicuramente ricoprono una parte importante è la parte che riguarda l'intelligenza artificiale non è tanto l'intelligenza artificiale che adesso che ormai mi stupisce ok è quanto diavolo sia diventato semplice poterlo andare ad applicare anche in sistemi di uso tutti i giorni e soprattutto il fatto che mi ha stupito di più è aver visto dei comportamenti cioè proprio l'intelligenza artificiale proprio tutto c'è un'intelligenza artificiale non soltanto sulla serie Xeon Gold di quarta generazione che spero sempre di poter aver modo di provare se mi state ascoltando signori di intel io un serverino con la serie Xeon in quarta generazione lo proverei volentieri mi diverte molto più quello tra l'altro che il processo di gaming ve lo dico molto francamente nonostante questo ho visto anche comunque delle implementazioni di intelligenza artificiale anche all'interno sulla serie core è stato fatto vedere come gli sviluppatori possono utilizzare l'intelligenza artificiale per andare a risolvere il bug dei giochi dove praticamente l'intelligenza artificiale ricostruisce gli scenari in cui questi bug avvengono per poi comunque andare a trovare dei fix o comunque è stata fatta l'intelligenza artificiale come può aiutare delle aziende la via di tutti i giorni molto figa la parte praticamente con il raccolto di caffè con le bacche si chiamano bacche chicchi no il chicco di caffè dopo all'inizio è una bacca e io questo non lo so non so aspetto in agraria vabbè comunque la cosa di caffè quanto è maturo quanti ce ne stanno anche la percentuale di quanto è maturo e soprattutto per esempio è stato fatto vedere anche come per esempio in una raccolta di vassoi l'intelligenza artificiale riesce a capire che cosa c'è dentro il vassoglio quanto è più nel vassoglio quanti ancora ne puoi mettere quando ne stai togliendo uno quando ne stai mettendo uno se li rigiri eccetera sono situazioni che per quanto riguarda soprattutto il tipo a livello industriale non è che siano delle novità allucinanti ok però vi posso garantire comunque l'imbalcatura per fare una cosa del genere ok per quanto possa essere fattibile a livello industriale ad oggi anche con sistemi di PLC o con altri sistemi di robotica è comunque molto grossa rispetto a processore telecamera puntata su diciamo che rende veramente molto più facile molte più operazioni passiamo a quello che veramente comunque mi ha stupito di più quando ci hanno fatto vedere le connessioni fotoniche ora figo il processore anche a 6 giga se sarà un 13900k in iniezione limitata che andrà out of the box a 6 giga fighe le schede video che costano poco e che ti fanno giocare che i retracing vanno meglio dell'RTX però quando vedo le connessioni fotoniche io sinceramente tutto quello che ho visto prima un pochettino mi si taglia ho visto delle cose miei tagliabue che non sapevo neanche cos'erano ecco vedo il taglio il mio cervello vede il tagliabue proprio punto sono fatto vedere praticamente in laboratorio questo prototipo questo sample di interconnessione fotonica e la connessione fotonica tra l'altro è uno dei grossi delle grosse sfide che si è posto Pat Gelsinger già da tanti anni è stato fatto vedere un video di Pat Gelsinger di 20 anni prima perché c'era praticamente Windows XP nello sfondo almeno 20 anni connessioni che comunque oltre a una velocità smodata riescono ad avere anche una stabilità fuori dal comune è stato fatto vedere come staccando e riattaccando praticamente il segnale non gliene frega niente proprio finisce tac riprende cioè non c'è un rampa è proprio immediato soprattutto questo qui apre ovviamente tutto un nuovo corso anche per poi quando guarderà se quella è una connessione diciamo molto grande tra virgolette anche molto grezza letteralmente un connettore faston si ficcava dentro un pezzo di silicio è comunque il preludio e l'inizio a qualcosa che poi può essere miniaturizzato di conseguenza anche utilizzato in processori e quant'altro quello è praticamente la vera prima chicca di futuro ovviamente Pat Gelsinger credo anche sulla base di questa cosa che ha detto dopo cioè del fatto del silicon fotoni ha detto chiaramente ribattendo anche su qualcosa che invece aveva detto Jensen pochi giorni fa la legge di Moore è viva è vegeta e loro l'applicheranno e che soprattutto nel corso di questi 5 anni avremo un incremento dal livello del numero di transistor di densità di performance che si può lavorare ok non è morta nessuna legge eccetera l'unica cosa che probabilmente morirà saranno i nostri portafogli se condivano c'è roba così da una parte e dall'altra arrivare ad un certo punto vi dico pure qualcosa era meglio quando c'era uno che faceva le cose fatte bene non tutti così almeno spendevi meno soldi ma ogni cosa che vedi è fatta bene schede video dalle performance allucinanti processori che poi prende quelli delle serie prima e comunque andrebbero fortissimo ed esce fuori di capoccia l'altro momento che più mi ha un pochettino colpito è stato vedere sul palco Pat Gelsinger e Linus Torval letteralmente il padre di Linux che praticamente chiacchieravano giocavano e parlavano di open source vedere Intel parlare di open source è comunque qualcosa che un pochettino ti apre perché diciamo non è stato sempre così ok vedere effettivamente anche questa questa riunione a livello di menti a livello come posso dire di pensiero fa ben sperare per il futuro devo dire quella è stata l'immagine più bella e storica di ieri al di là ovviamente della bontà dei prodotti che è innegabile effettivamente però parliamo di questa cosa facciamo un discorso con i ragazzi tra l'altro che erano lì una delle cose di cui ci siamo anche domandati è il fatto di quanto poi si potesse arrivare con la potenza di questi processori cioè nel senso che è figo vedere il processore che va più forte a 6 GHz a 24 core eccetera però poi alla fine quando noi lo traduciamo numericamente le performance di un processore ad oggi vediamo il processore che su CSGO si passa da 750 a 830 frame non è una frase mia però mi ritrovo perfettamente in linea con questa frase ed effettivamente è vero detto di quanta diavolo di potenza alla fine abbiamo bisogno per quanto riguarda il gaming tra l'altro durante l'intervista a Biagio Currieri mi è piaciuto molto che comunque lui abbia detto chiaramente il 3900K è ovviamente il top di gamma è ovviamente qualcosa che ti ha delle performance in più ma la maggior parte dei gamer praticamente tutti si troveranno benissimo anche con un i5 10600K tutti quanti iniziamo ad avere quest'idea dove sì se vuoi giocare puoi ovviamente prendere il top però non ti serve spendere così tanti soldi come magari tante volte altre situazioni possono arrivare a farti credere non hai bisogno di spendere 2000 3000 4000 euro per giocare e divertirti anche a livello veramente alto uno dei video che arriverà tra poco sarà proprio su questo argomento portandovi proprio una configurazione che va a mirare che va a toccare su questo punto diciamo che tutto questo qui racchiude un pochettino le novità e tutte le idee che io ho sulla nuova su questa conferenza Intel è stata una conferenza molto molto stimolante soprattutto dalla vista degli spunti vi ho detto per quanto riguarda i prodotti ho visto tutto molto figo dobbiamo provare ovviamente per quello che posso dirvi non mi aspetto prodotti che vadano meno di quelli di prima anche perché costi chiari di luna e già quelli di prima andavano bene quindi sicuramente mi aspetto veramente adesso una sfida serrata molto lo farà il rapporto prezzo prestazioni che riusciremo ad ottenere e secondo me questa volta diciamo che forse Intel è un po' più in vantaggio rispetto a MD detto questo ragazzi mi raccomando fatemi sapere voi cosa ne pensate commentate condividete e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao